Allora, a tutti noi ovviamente piacerebbe mangiare molto cioccolato. Per adesso all'appello manca la voce del medico, allora ascoltiamo un gastroenterologo intervistato da Claudia Mondelli. Il cioccolato contiene delle molecole che hanno delle proprietà benefiche. La principale, il cioccolato può stimolare la dopamina e quindi dare una sensazione di benessere o tra virgolette tirare su un po' l'umore, diciamo così. Per cui il cioccolato ha delle proprietà benefiche sicuramente. Cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato fondente, a quale tavoletta possiamo affidarci? A quale tavoletta affidarsi? È meglio affidarsi al cioccolato fondente, nel senso solitamente la forma più pura, meno lavorata. Quindi sicuramente tra tutti i tipi di cioccolato è meglio affidarsi a quello fondente. Però l'importante è che la frequenza non sia quotidiana, ma sia appunto come rientra, come è considerato dall'ordine dei medici o comunque dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, settimanale, come tutti gli altri dolci a dirla.